Torino ormai è la città del terziario, lo dicono i dati, che colgono il passaggio dalla monocultura auto ai servizi. Torino chiudono due scuole dell'infanzia nelle parrocchie. La città, tra la festa della Consolata e San Giovanni, prosegue il grande cambiamento della presenza cattolica in diocesi tra conferme e germogli, il rischio del deserto sanitario anche in Piemonte. Attualità, la guerra che non finisce mai. 600 migranti morti in Grecia, una strage terribile. Cultura, le città e il potere visti dall'alto. Chiesa, il primo passo del cardinal Anastasio Ballestrero verso gli altari, le periferie negli incontri della Consolata. Oratori, la nostra inchiesta fa tappa al santo volto, cottolengo e stimmate di San Francesco. Lanzo e San Francesco al campo, campi estivi, tutto esaurito. Il vescovo Giraudo negli oratori di Santa Maria Goretti e Parella. Pagine. Officine politiche e bioetica. La voce e il tempo. L'altro giornale.